partita finita finita basta 2 a 0 ragazzi 2 a 0 ragazzi che c'erano è finita 2 a 0 facciamo 2 a 1 siamo al 44esimo non si alza neanche il tabellone del recupero Milan ci vediamo l'anno prossimo ciao Milan ci vediamo l'anno prossimo e io sono qui Milan Inter 17 gennaio 15-17 ormai 35-25 20 secondi alla fine della partita rimaniamo qua fino alla fine e vi fanno un saluto ciao Vipidus ciao Capitanius ciao colleghi ciao amici ciao a tutti ci vediamo l'anno prossimo 45esimo e bambini 3-2-1-0 oppure il countdown 4 minuti di recupero 4 minuti di recupero 4 e anche 1-4 5 minuti di recupero 6 minuti cosa è che finì è uscito le hanno regalato un regalino in Francesco regalino di Natale L'anno prossimo, guarda qua, noi ci salutiamo così, ciao, a Milano vediamo l'anno prossimo e buon Natale e tanti auguri, va bene, auguri, auguri, saluto anche te a te, l'anno prossimo, vai, io, all'anno prossimo, ciao, all'anno prossimo e salutalo però, anche i saluti a me, l'hanno capito? Dopo che l'ho assaltato un'altra volta, adesso mi faccio, 4 minuti, vabbè ormai 2 a 0 è fatta, grazie